Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro!» Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta!» Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio trattami come uno dei tuoi salariati» Si alzò e tornò da suo padre Quando era ancora lontano, suo padre lo vide ebbe compassione, gli corse incontro gli si gettò al collo e lo baciò Il figlio gli disse «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio» Ma il padre disse ai servi «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare mettetegli l'anello al dito e i sandali e i piedi «Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita era perduto ed è stato ritrovato» E cominciarono a far festa Il figlio maggiore si trovava nei campi Al ritorno, quando fu vicino a casa udì la musica e le danze chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo Quello gli rispose «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo» Egli si indignò e non voleva entrare Suo padre allora uscì a supplicarlo Ma egli rispose a suo padre «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici Ma ora che è tornato questo tuo figlio il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute per lui ha ammazzato il vitello grasso» Gli rispose il padre «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita era perduto ed è stato ritrovato» «Pace e bene, carissimi amici nella quarta domenica di Quaresima ascolteremo uno dei brani più conosciuti del Vangelo e forse anche più amato la parabola del figlio al prodigo o se volete del padre misericordioso Ci chiediamo prima di tutto in quale contesto Gesù racconta questa parabola Il Vangelo, ecco, ce lo fa capire sin dalle prime battute I farisei e gli scrivi mormoravano dicendo «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro» È proprio questo il momento in cui Gesù si rivolge ai presenti con la parabola del figlio al prodigo In realtà, con queste parole Gesù introduce una serie di tre parabole la pecora perduta la moneta perduta è quella del figlio al prodigo ma le racconta insieme proprio per far comprendere quanto il Signore tenga alla nostra conversione e quanto grande sia la sua misericordia verso di noi Nella parabola allora di questa domenica ci confronteremo tutto sommato con tre personaggi principali tre protagonisti tre atteggiamenti tre ruoli due figli e un padre il più piccolo dei figli inizialmente rivendica la sua parte di beni padre dammi la parte di patrimonio che mi spetta costringe così il padre a dividere le sostanze ma presto lontano dalla casa di suo padre sperpererà tutti i beni ricevuti e si ritroverà nella miseria trovandosi così nella condizione di bisogno riflette sulla scelta fatta e si rende conto di aver sbagliato mi alzerò ascolteremo andrò da mio padre e gli dirò padre ho peccato verso il cielo e davanti a te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio trattami come uno dei tuoi salariati così si alzò e andò da suo padre il secondo personaggio su cui vogliamo brevemente riflettere è il figlio maggiore il quale non accetta il comportamento del padre che al ritorno del figlio minore ecco fa preparare una festa fa uccidere il vitello grasso gli consegna un vestito nuovo gli mette l'anello al dito si indignò dice il Vangelo e non voleva entrare e quando il padre uscì fuori a supplicarlo perché entrasse ecco che il figlio si rivolge al padre dicendo ecco io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici ma ora che è tornato questo tuo figlio il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute per lui hai ammazzato il vitello grasso ma il padre gli rispose e quindi consideriamo ora il terzo personaggio figlio tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita era perduto ed è stato ritrovato parole forti e commoventi che concludono il brano evangelico e che dobbiamo considerare insieme all'atteggiamento assunto dal padre il quale ecco quando vede questo suo figlio minore che si era incamminato nuovamente verso la sua casa ecco già vedendolo da lontano il padre ebbe compassione gli corse incontro gli si gettò al collo lo baciò quindi dice ai servi di preparare la festa non è difficile carissimi amici vedere riflessa in questa parabola anche la nostra storia e ritrovarci nell'atteggiamento sbagliato di uno dei due figli il minore si allontana dal padre il maggiore accecato dall'invidia non si accorge che tutto ciò che è del padre è anche suo il padre usa misericordia per entrambi Gesù allora vuole farci comprendere che c'è speranza di salvezza che la conversione ecco è una scelta possibile che pone l'uomo nel giusto orizzonte e lo riporta verso la casa da cui si è allontanato Gesù ci dice che c'è un padre misericordioso pronto come quello della parabola a venirci incontro a gioire e a rallegrarsi per aver ritrovato un figlio che era morto ed è ritornato in vita era perduto ed è stato ritrovato che ognuno di noi allora abbia il coraggio come il figlio prodigo consapevole dei suoi errori di intraprendere con gioia la strada del ritorno certi che il Signore farà sentire forte l'abbraccio della sua misericordia pace e bene e buona domenica a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.